Let's go baby! Non ci vediamo da un pochino, scusatemi ero a Torino e poi Milano. Voi vi chiederete perché ero a Torino e poi a Milano? Ero a Torino per il raduno fatto con gioia, infatti questo video che state per vedere è un vlog fatto alla fine del raduno quando ormai le persone se ne erano andate perché c'era un po' meno casino, eravamo tantissimi. E beh, e poi sono stato a Milano per l'evento Overwatch All Star per giocare contro Gallinari assieme a Romagnoli e ovviamente con tutta l'Illuminati Crew. E lì ragazzi, fatemelo dire, ho incontrato nel mio video una persona che stimo. E beh, voglio raccontarvi di questo evento fatto a Milano, ovviamente anche delle esperienze del MOBA perché questo video che state vedendo è un piccolo video fatto a chiusura tutti assieme quindi non si tratta di quelle che sono le mie esperienze, di cosa è successo e così via. E beh, voglio sapere da voi come volete che ve lo racconti, un post, magari volete un vlog, volete, non lo so, mentre gioco che ne parlo, eccetera eccetera. Comunque ragazzi, oltre a dire che oggi pomeriggio sarò in streaming e bla bla bla, quello che dico sempre e ogni volta voglio ringraziare Call of Duty Italia e ho deciso di mettere in palio ben 3 DLC in questo caso 2 DLC 2 per Black Ops 3 PS4 e 1 DLC 1 sempre Black Ops 3 PS4. Ovviamente voglio farlo per ringraziare i ragazzi di Call of Duty Italia per il supporto che ci hanno dato al raduno per quanto veramente ci vogliono bene e si dedicano a Call of Duty, quindi per ringraziarli. La cosa che vi chiedo è come fare per essere sorteggiati, bene, dovete andare a mettere mi piace al gruppo Facebook con lo video d'Italia, la prima pagina senza bimbi minchia, a mettere mi piace, ovviamente scrivete qui sotto che l'avete messo, scrivete il vostro nome sotto perché così, poi vate a controllare perché se no voi mi fregate, bastardi. Comunque siamo arrivati alla fine di questa piccola intro che è durata, beh, quasi 2 minuti, quindi durerà un pochino più di tutto il video completo. Io vi saluto, baby, ci becchiamo al prossimo video, ci becchiamo oggi di streaming e che ne so, magari potrei pensare di fare un altro video oggi, non lo so, vedremo, vedremo, vedremo. Vi lascio al gameplay, non è vero, non è un gameplay, ciao. No, 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 no. Let's go, baby, sono qui assieme a Joe e guardate quanta gente che c'è. Allora, Joey, di questo raduno, dicci qualcosa Allora, sarà una roba assurda, cioè lui ovviamente va in giro per l'Europa e è abituato Io no, è la prima volta Figa, raga, mi sono circondato da tutti i ragazzi della mia età Per cui, sarà una roba assurda, ce lo auguro a tutti, è una sensazione fantastica Tra l'altro può uscire anche un mio video sul mio canale Allora, vedete per forza Link in descrizione E si spamma Si spamma, Joey, Ottba Allora, ora poggiamo la cam qua E voglio fare delle domande a chi è venuto a questo raduno Per prima cosa, per prima cosa comunque, questo raduno Vi piace il Mopa? Si Ci siete già stati qui? No Prima volta, chi è che c'è già stato? Pochissime persone Pochissime persone Io, prima volta che vengo qua, ho visto solo le foto È fantastico per nerdare Se vuoi la sera averti qualcosa con gli amici e nerdare pure Quindi fare una sera diversa Peggio e dire Ma è assurdo, ragazzi Ulla Non me l'aspettavo questo figo Arrivo dentro Luci assurde Con chiude della padonna Lei della padonna assurda Una roba indecente Io non me l'aspettavo una roba del genere Dove ho visto che io non ci sono roba del genere Se volete venire a vedere qualcosa con dei vostri amici Venite tranquillamente In più Se ci avete degli amici che nerdare di sera o voi Potete venire a nerdare qua È una roba assurda La cosa bella È che non si vede perché siamo nel salotto play Qua potete vedere le postazioni con le play eccetera eccetera E questa è solo una parte Poi c'è tutta la parte con i pc Sotto c'è la sala streaming C'è il bar di là con l'alcol Alcol a bomba E tutti i cocktail con nomi poi di personaggi di fumetti Di videogiochi Di love legends È un esempio tech e così via Comunque ragazzi Una domanda per chi è venuto qui Per me e per Gioe Vi siete divertiti? Vi è piaciuto questo evento? Sì Ragazzi bisogna fare anche un ringraziamento Non solo al MOBA Ma anche ai ragazzi di GoLocchi d'Italia La prima pagina senza bimbi minchia Stanno qua dietro Facciamoli vedere Che ci hanno aiutato a organizzare questo evento A diciamo creare i vari mini eventi All'interno della location Quindi un ringraziamento anche a loro Un ringraziamento al MOBA A Karim Tito Ovviamente al grandissimo Gioe Ciao Ragazzi un saluto finale a tutti 3, 2, 1 Bella Mi hanno deluso Mi aspettavo un Let's Go Beaches Bella ragazzi Let's Go Beaches